Poi metterlo nei cut-off Esatto, esatto Parliamo di programmazione concorrente Quindi facciamo una brevissima introduzione su cos'è la programmazione concorrente Quali sono le tipologie di allenamento un pochino più comuni Che utilizzano questa tipologia di programmazione E poi dopo magari vediamo un esempio di come potremo programmare con un paio di questi metodi Cos'è la programmazione concorrente? La programmazione concorrente va a contrapporsi alle programmazioni lineari e a blocchi La differenza tra la concorrente, la lineare e a blocchi È semplicemente che nella concorrente si hanno tutti gli stimoli Forza, ipertrofia e picco o potenza, dipende da cosa si fa Contemporaneamente Che possa essere all'interno dello stesso mesociclo Che possa essere all'interno dello stesso microciclo O che possa essere all'interno della medesima seduta allenante Come funziona un protocollo lineare Per capire qual è l'opposito rispetto a quello di cui stiamo parlando ora Se avrà un inizio, mettiamo che io vi faccio in rosso l'intensità e in blu il volume Non ho rosso, sì, ce l'ho qua Ok Vi faccio in rosso l'intensità e in blu il volume Il tipico protocollo lineare partirà con un'intensità molto bassa E nel tempo aumenterà l'intensità Non avrà un andamento veramente lineare Sarà ondulato probabilmente nel tempo e modulato Però si ha un trend La linea di tendenza dell'intensità sarà questa Qua si avrà un picco nel caso del powerlifting o la competizione Nel caso del bodybuilding si avrà un periodo in cui si ha uno shift un po' più dal volume verso l'intensità Mentre il volume avrà un andamento opposto Quindi si partirà da un volume molto alto e si arriverà a un volume molto basso In concomitanza con il picco dell'intensità Quando noi lavoriamo viceversa a blocchi L'andamento, il trend è il medesimo Ma si hanno blocchi di periodi temporali Dove domina uno stimolo rispetto all'altro Quindi noi avremo per esempio Su tre mesi Avremo un mese di accumulo Di accumulo Dove avremo che L'intensità è molto bassa E il volume è molto alto Poi dopo avremo un periodo in mezzo Che è il periodo di intensificazione In cui il volume cala Adesso non è praticamente lineare in questo modo Però per aiutarvi a comprendere il concetto Mentre l'intensità si alza Quindi avremo un periodo in cui Le due componenti Vanno ad avere Un valore simile Quindi un volume medio Un'intensità media Che è solitamente la fase di costruzione di forza E poi dopo c'è un ultimo blocco Che è un po' più proprio del powerlifting Tipicamente chi si allena A scopi estetici non lo fa O non lo fa così frequentemente In cui l'intensità scavalca Il volume come priorità E andiamo a toccare intensità molto alte Con volumi molto bassi Questo è l'andamento tipico delle variabili Nelle due tipologie di programmazione Che sono un pochino anche più in voga Da quello che vedo io in Italia In particolare nel powerlifting Il concorrente Viceversa Ha Tre fasi O due fasi I due programmi che vedete qua Primo e ultimo FAT E ATFILD Sono entrambi due tipologie di programmazione concorrente In cui noi abbiamo gli stimoli All'interno della settimana Tutti gli stimoli però con l'obiettivo ipertrofia In un caso FAT abbiamo un'ondulazione che va di seduta in seduta Quindi noi avremo tipicamente dei giorni power e dei giorni hypertrophy E solitamente la struttura tipica di un FAT magari su 4 allenamenti a settimana Sarà un lower body power Quindi un primo giorno dove lavoriamo più su un rep range Che va magari dalle 4 alle 6 ripetizioni Poi avremo un higher Quindi la parte superiore del corpo O upper come lo volete chiamare Power Dove nuovamente dominano le 4 alle 6 ripetizioni Quindi in queste prime due giornate avremo una selezione degli esercizi minore Un'enfasi maggiore sui multiarticolari Un'enfasi maggiore sui rep range bassi Quindi carico alto Quindi in questa fase dominerà l'intensità Che abbiamo detto che è la nostra variabile rossa Intensità La prima porzione della settimana Mentre la seconda porzione della settimana Avremo di nuovo low e high Però in questo caso entrambi con delle giornate di ipertrofia Dove si shifterà in avanti il rep range Si shifterà in avanti lo stimolo Quindi il rep range medio che andremo a stimolare Sarà dalle 8 alle 12 ripetizioni Con anche picchi di 15-20 Come vedete quindi la gran parte del volume arriverà da questo Si avrà una componente molto maggiore di isolamento Magari ci sarà un pochino di tecniche di intensità Stras metabolico Una varietà maggiore degli esercizi All'interno di queste due sedute Dove quindi dominerà invece il volume Come variabile Quindi come vedete questo Non è un lasso di tempo molto lungo Ma è un unico microciclo di una settimana E ogni settimana si ripeteranno Queste due mini blocchi Uno un po' dedicato all'intensità E uno un po' più dedicato al volume Poi di settimana in settimana Se una persona decide anche con mira unicamente ipertrofica Di programmare in modo da avere una progressione Di settimana in settimana Ovviamente i parametri della singola giornata cambieranno Però la struttura settimanale rimarrà bene o male questa Se si fanno con una cadenza settimanale maggiore Ovviamente poi dopo si ristruttura Con più giorni power o più giorni hypertrophy In base a qual è il focus primario del blocco Che stiamo andando ad eseguire E questo era il primo esempio di programmazione concorrente Secondo il fatto Un po' più mirato all'ipertrofia Guardiamo il secondo Molto molto comune nel bodybuilding Che è il metodo Hatfield Per chi non lo sa E entrambi questi metodi Sono stati ideati da powerlifter Perché c'è sempre in Italia questa diatriba Che il powerlifting e l'allenamento della forza Non servono a niente Per chi vuole costruire l'ipertrofia Però poi si vede gran parte delle persone che hanno obiettivo Ipertrofia Utilizzare programmi FAT e Hatfield Il power hypertrophy adaptive training L'ha fatto L'ha creato Lane Norton Lane Norton è un ex natural bodybuilder Che adesso si è votato Si è trasferito tra i powerlifter Silver Medaglia d'argento Ai mondiali di powerlifting L'ultima volta che vi ha partecipato Prima di infortunarsi E anche detentore Ex detentore del record del mondo Di squat nei meno 83 kg Powerlifter Adesso Hatfield Uno dei più grandi e leggendari powerlifter di sempre Come funziona il metodo Hatfield? Ha una struttura simile A quella FAT Tra virgolette Però all'interno della singola seduta allenante Quindi vedremo che un giorno della settimana Vi facciamo il giorno 1 Day 1 Avrà una prima porzione dell'allenamento Dedicata a uno stimolo di intensità E di tensione meccanica importante Quindi diciamo che la prima porzione dell'allenamento è I La variabile che domina Una seconda porzione Dove domina lo stimolo in volume E una terza porzione In cui domina Lo stress metabolico Lo stimolo in stress metabolico Cosa vuol dire? Che questa prima porzione Avrà molti articolari Parliamo di gambe Per esempio Squat In un rep range Basso Poi lo facciamo Prendiamo più o meno Gli stessi cose di prima Quindi vedete che ci sono molte Somiglianze Diciamo un rep range che va dalle 4 alle 6 ripetizioni Quindi un multiarticolare pesante Dove utilizziamo dei carichi elevati E diamo uno stimolo di forza Ed uno stimolo di tensione meccanica importante Verrà seguito da una seconda porzione Dove magari la selezione degli esercizi È un pochino più Un pochino più ampia e varia Quindi magari avremo Una pressa e degli affondi Ovviamente Sto facendo un esempio un po' semplicistico La pressa e lo squat Sono entrambi i movimenti Che coinvolgono grosse Porzioni della muscolatura Che permettono un sovraccarico progressivo nel tempo Però Per farvi capire un attimo La seconda porzione Avrà quindi una selezione Degli esercizi un pochino più ampia E un rep range Che si sposta un pochino più avanti Quindi magari diciamo 8-12 Come facevamo a vedere prima Quindi andremo sempre Sempre comunque Con una buona componente di tensione meccanica Ma andremo in un rep range Che ci permette di accumulare In maniera un po' più efficiente il volume La terza ed ultima parte Che abbiamo detto Essere quella di stress metabolico Avremo degli esercizi di isolamento Che potranno essere Per esempio in questo caso Un leg extension E un leg curl Con eventuali tecniche di intensità Se qualcuno lo vuole fare Per stimolare ancora in maniera maggiore Questo stress metabolico È un rep range molto superiore Diciamo 15-20 ripetizioni Devono necessariamente essere tutti esercizi Dello stesso gruppo muscolare? No! Questo è un esempio Di struttura Atfield In cui abbiamo Una monofrequenza Quindi stiamo allenando Che non è detto Perché se ripeto questo due volte alla settimana È già una multifrequenza Però stiamo allenando In una giornata solamente La parte inferiore del corpo Noi potremmo avere la stessa identica struttura Utilizzando l'intensità Come variabile primaria Per un movimento In una determinata giornata Per la spinta Quindi magari la panca Per poi dopo avere il volume di gambe E lo stress metabolico di schiena E quindi possiamo trasformare Questo in una full body E poi dopo Il giorno dopo Ovviamente andiamo a Shiftare il focus Per i vari distretti Quindi magari L'intensità diventa le gambe Nel giorno 2 Lo stress metabolico diventa la spinta E il volume diventa la trazione Quindi la schiena Questo è un esempio di Hatfield Di come si ha La presenza di tutti quanti gli stimoli In un unico blocco Che in questo caso è il giorno Parliamo ora di un programma Di una tipologia di programmazione Molto più propria Della forza del powerlifting Che è il DUP Che è la stessa cosa Però applicata Al powerlifting Nel DUP Si può avere una struttura Sia come quella dell'Hatfield Che quella del FAT Semplicemente vuol dire Daily Ondulated Periodization Vuol dire che all'interno Di un'unica settimana Se noi facciamo un grafico Come quello di prima Dove però questo grafico Questa volta rappresenta Unicamente una settimana Noi avremo delle giornate In cui abbiamo L'intensità alta Delle giornate In cui abbiamo L'intensità media Delle giornate In cui abbiamo L'intensità bassa Quindi queste saranno Le tre giornate Faccio un esempio Se sono tre giorni alla settimana Giorno 1 Giorno 2 E giorno 3 Con le variazioni Dell'intensità Ovviamente il volume Avrà un trend opposto Quindi avremo La giornata 1 Con il volume basso La giornata 2 Con il volume medio E la giornata 3 Con il volume alto Queste tipologie di giornate Si chiamano L'intensità alta Volume basso Si chiama P La giornata power La giornata media Si chiama F La giornata di forza O in inglese S Strength E la giornata invece A volume alto E intensità bassa E la giornata di H Hypertrophy O la giornata leggera In italiano Ci sono due chiavi di lettura primarie Il DUP E' nato inizialmente Con il sollevamento Peso olimpionico Quindi si aveva Una struttura Settimanale In cui la giornata Più importante Era il power Noi volevamo arrivare Alla giornata power Freschi Quindi avevamo La forza Quindi S Come prima giornata Poi prendevamo La giornata più leggera La mettevamo in mezzo Che era l'ipertrofia Che serviva anche Come recupero attivo E avevamo come ultimo giorno Quando eravamo più freschi La potenza In modo da arrivare Da recuperare Durante la settimana Prima di avere Lo stimolo in potenza Quindi SHP Invece La rivisitazione Di Eric Helms E Mike Zurdos Ha cambiato l'ordine Ed è La struttura nuova Tra virgolette Più in vogo Ultimamente Del DUP È diventato L'HPS Quindi Hipertrophy Power And Strength Questo ci permette Di dare un'enfasi Molto importante Al giorno 1 E al giorno 3 Ipertrofia E forza E il giorno di power Diventa un giorno Di tecnica Technique work In cui Si ha Un carico Che è medio E un volume Che è basso E ci permette Di affinare L'esecuzione Tecnica E di funzionare Come recuperativo Tra il giorno di ipertrofia E il giorno di forza Questa è la struttura Questa era La struttura Settimanale Invece Qual è la struttura Della singola giornata Anche in questo caso Si possono avere Due approcci Uno più simile Al FAT Quindi mettiamo una P Non c'entra niente Solo per farvi capire E uno un po' più simile All'ATFID Mettiamo un H Vediamo la settimana La settimana di allenamento Se noi abbiamo Una struttura Più simile A un FAT Avremo una settimana Un micro ciclo Di allenamento Che sarà fatta In questo modo Giorno Abbiamo detto Di Ipertrofia Seguito dal giorno Il giorno di potenza Che andiamo a concludere Col giorno Di forza Quindi avremo Un giorno In cui avremo Tutti gli stimoli Stiamo parlando Un pochino più della forza Quindi magari un po' più Del powerlifting Avremo Squat Panca E stacco Tutti e tre Con stimoli Per trofia Avremo giorno P Di potenza O di tecnica Dipende da Qual è il nostro obiettivo Quindi Attenzione Pesi Ipertrofia Powerlifting Avremo probabilmente Questo Un T E non un P Sport Quindi dove La componente potenza È molto importante Sport di prestazione In generale E Weightlifting Sport dove Ripeto La componente potenza È molto più importante Della componente Forza assoluta Avremo Il P Al posto Del T È un'inversione Dell'orientamento Di questi giorni In modo da dare Enfasi a questa Che diverrà La variabile Più importante Se noi invece Lo strutturiamo In stile Hatfield Avremo semplicemente Un giorno Non si dice Stile Hatfield Ma lo dico Unicamente Per renderle cose Più chiare Giorno 1 Giorno 2 E giorno 3 Dove si ruotano Gli stimoli Per le varie alzate Quindi magari Il giorno 1 Diventerà Uno squat Di uno squat Pesante Qua scrivo Pesante Medio Leggero In italiano Così magari Comprendete anche meglio Avremo magari Una panca media E avremo Uno stacco Leggero Poi magari Il giorno 3 Quindi abbiamo Un giorno di Lo stacco pesante Possiamo mettere La panca media E possiamo mettere Lo squat leggero Quindi in questo caso Il giorno 2 Rimarranno L'altro giorno Da utilizzare Quindi il giorno 2 Sarà una panca pesante Uno squat medio E uno stacco medio Quindi questa qua È la struttura Settimanale Con le due varianti Del DUP Perché questo video? Questa tipologia Di programmazione È estremamente interessante Perché sembra Dalle ultime evidenze scientifiche Che lavorare Su tutte quante Le variabili Contemporaneamente Sia quello che permette Di ottenere I migliori risultati Sia in quanto Di ipertrofia Che in quanto A forza Sul lungo termine Quindi se non l'avete Mai provato Provate Provate a programmare Seguendo queste linee guida Se vi è stato utile Vi è piaciuto Un altro video Nuovamente scientifico Con la lavagna Per favore Fatemelo sapere Perché ci tengo tanto Sono quelli che piacciono A me più di tutti quanti Se me lo volete far sapere Un like Iscrivetevi Lasciatevi un commento Ci vediamo Un prossimo video Ciao raga